buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti nuovo video vlog oggi barra chiacchiericcio perché mi andava così e quindi sto facendo questo video chiacchiericcio per voi oddio non so come mettere sto telefono niente aspetta un attimo potremmo anche evitare di spostare il telefono allora oggi è giornata piuttosto nuvolosa ma vabbè dettagli e niente appena finito di fare colazione io ci metto un occhio della cuoresima per regolazione perché la mia colazione lunghissima quindi vabbè e niente quindi ho fatto tanta colazione tanta non ho neanche mangiato nulla ma perché errore sbagliatissimo non fate come me io non ho mangiato nulla ma solo ho preso un caffè e una tazza di latte che tra l'altro vedete ce l'ho ancora qui e non va bene poi niente infine mi sono messa a come dire a guardare un po di tele di televisione tra l'altro mi sia stato detto che non si sentiva niente nel video di ieri ed è vero avete ragione ho notato anche io questa cosa che non si sente una mazza nel video di ieri o se no si sente veramente poco e quindi nulla era un casino alla fine può finire che i video così non le faccio più con la televisione sottofondo perché si sente veramente male aspettate che vi porto con me perché mi sto curando la televisione ma c'ho anche voglia di parlare con voi già allora avevo dimenticato di spegnere la luce e cucina già io l'ho spenta allora e voi come vi va la vita io bene a parte che sono ancora in pigiama non so se si può notare ma a breve mi farò una bella doccia prima di pranzo e poi mi sbolognerò se si può dire così sbolognerò si mi sbolognerò a incremarmi se ne ho voglia se non mi incremo neanche però mi devo per forza incremare perché la pelle è secca come una cosa di rospo ma vabbè e poi penso che mi trucco perché così non possono passare sì oggi ho i capelli tirati e anche con la coda so che mi stanno bene i capelli sciolti ma oggi no non mi andava e ho deciso ovviamente di fare la coda vedete con la coda da un lato non so se si vede sì si vede la giornata l'ho detto che non è bella quindi vabbè adesso sto guardando cos'è mattino 5 sì è mattino 5 su appunto sì sono canali 5 e nulla intanto mi hanno lavato la casa oggi non l'ho aiutata perché ragazzi ero mezz'attormentata e anche perché ero ancora a letto mi sono razzata tra le 7 e le 8 del mattino però era ancora mezza suonata ma mi hanno deciso di dire di dirmi sì oggi pulisco io la casa e un altro giorno lo farai tu aiutandomi però stavolta e davvero lo farò perché altrimenti ci vivo anche io in questa casa non mi sembra giusto che devo fare sempre tutto a lei quindi domani che è domani e anche stasera incomincio a rifare il video delle pulizie perché sì e vai già e niente allora ditemi se in questo video si sente bene l'audio se non sentite chiasso e nulla di nulla perché ho abbassato il più possibile l'audio del telefono si del telefono ciao della televisione nulla tutto lì e basta già si sente bene si vede bene spero di sì ok ragazze io penso che me ne vado a fare altri video e ci vediamo dopo io non ho idea ancora di che altri video potrei fare beh stavo pensando di mettere a posto qualcosa in camera mia ma per il momento bravissime non ne voglia intanto ogni tanto guardo cosa sta arrivando di notifiche peace out ciao 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 a tutte peace out ciao like commento e iscrizione e attivate la campanella non vi chiedo di condividere tanto non so che non lo farete quindi vabbè ciao 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 ciao